A noi oggi, come è stato per Padre Pio, da qui, da qui dove siamo, poter continuare a intercedere e dire Dio, guarda al tuo figlio, guarda alla croce di Gesù, guarda alle sue piaghe, guarda alla risurrezione Che ha reso queste piaghe viventi e vincitrici della morte e non abbandonare questo mondo, salvalo, redimilo Perché tu sei grande in misericordia e pietoso, esattamente quello che abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale Ecco l'invito che faccio a me e a tutti oggi, nel nome dell'insegnamento e della testimonianza di Padre Pio Dell'amore e della fedeltà che portiamo a questo luogo, a questo suo santuario A questo monte di San Giovanni Rotondo che nessuno dovrebbe salire in vano Che il nostro animo diventi sempre intercessore E guardando a Gesù, crocifisso e risorto, ripetere a Dio il Padre Guarda che il giusto che salva il mondo c'è, è tuo figlio, è Gesù Non abbandonarci perché sei misericordioso e pietoso Amén